Attenti al Gorilla con Cristiana Capotondi, Franca Matano naturalmente di Luca Miniero. Insomma, intanto cominciamo a parlare di questo Gorilla che ci sembra un Gorilla molto particolare. Il Gorilla è il veicolo che permette alla famiglia di tornare assieme, che scoperchia soprattutto in me e in Lorenzo Caputo, questo avvocato sfigato, degli istinti primitivi che lo aiutano a vivere in maniera più equilibrata con la famiglia. Quindi il Gorilla un po' ci risveglia. Sì, probabilmente il Gorilla è anche l'istinto che in ogni famiglia non dovrebbe mancare, quindi in questa famiglia prima distrugge tutto, poi in qualche modo quello che li rimette insieme. È sempre difficile dire come nasce un'idea, almeno per quanto mi riguarda, però in realtà è una storia che nasce da una sentenza americana, quindi una storia vera dove un tale ha fatto un avvocato, ha fatto causa ad un zoo per le condizioni del Gorilla che era all'interno di questo zoo e la sentenza lo ha giudicato addirittura persona non umana e quindi in qualche modo, anche se non se l'è portata a casa, diciamo che l'ispirazione deriva da quella cosa lì. Cristiana, un Gorilla in casa, però un Gorilla come Peppe, insomma ci può stare, no? Sì, ma tutti lo vorrebbero quando... sporca, sì, però si autopulisce poi anche ad un certo punto, no? Quando gli insegni... ma in realtà credo che questo sia un film sogno di tutti, perché quando eravamo bambini credo che tutti abbiamo sognato di avere un animale speciale che potesse diventare il nostro amico immaginario, ecco, quindi anche quando abbiamo letto la sceneggiatura, almeno io personalmente, poi non so se questo dice molto sul mio grado di capacità intellettive, ma ho detto a Luca che figo, quindi giriamo con un Gorilla. Chiaramente il Gorilla è un animaltronic perché c'era una complessità, anche un pericolo al quale non si poteva esporre la truppa, o solo alcuni membri della truppa, seconda di come gli attori. Però è un, diciamo, un aiutante quasi di Babbo Natale, dove Babbo Natale è questo papà che cerca di rimettere un po' insieme la famiglia non avendo gli strumenti e poi alla fine questo Gorilla gli fornisce gli strumenti per rimettere insieme la famiglia. Beh, sicuramente il Gorilla poi rappresenta la diversità all'interno di questa famiglia e anche il guardarsi dentro per ricomporsi. Poi ovviamente il nostro Gorilla cerca anche lo YouSoli, quindi in qualche modo è praticamente una parabola al contrario di quello che fa probabilmente l'immigrato nel nostro paese. Ma ovviamente l'approccio politico è semplicemente un allargare quello che è il tema, che è assolutamente un tema familiare, natalizio. Poi anche un Gorilla si diceva, insomma, che chiede anche lo YouSoli e poi fa anche dei commenti molto particolari, per esempio dice gli umani che vogliono mandare in Africa, no? Non vogliono mandare in Africa chi ci vuole andare, invece vogliono far ritornare in Africa chi ha problemi. No, a me la battuta del Gorilla, una di quelle che mi piace di più, è quella di Darwin che dice che è l'uomo che deriva dal Gorilla. Quella che mi ha colpito di più, infatti faccio i complimenti ora a Luca, non gliel'ho potuto mai fare di persona. Mi piace molto perché Luca, soprattutto con quella battuta, dà una nuova definizione alla parola evoluzione. Cioè evoluzione per molti vuol dire progresso, avanzamento tecnologico, e invece in quel senso magari un branco di Gorilla in Africa vive in maniera più equilibrata socialmente e quindi più evoluta rispetto magari a un branco di persone che vive in un condominio e non si sopporta e dà meno strumenti proprio sociali del branco di Gorilla. Quindi mi ha colpito molto quella battuta. Da adulto puoi scegliere se avere o no animali, però se mi viene in mente l'educazione da dare ai bambini anche per il fatto che sono cresciuta con i cani, è proprio il confronto con un essere vivente, non umano che ti può consentire anche di avere un primo contatto con la natura sentendo l'amica, sentendoti parte di un tutto. Quindi credo sia fondamentale. Vuol dire che nasce proprio dall'amore in qualche modo per gli animali, insomma, che però continuino a fare gli animali. Ecco, non ci piacciono gli animali animali e non gli animali che fanno gli uomini. Forse da questo nasce l'espitazione del film. Le scimmie in fracche ci piacciono tantissimo. No, però sì, gli animali... Ma meno o meno i cani col cappottino. I cani col cappottino non ci fanno impazzire. No, però come diceva Cristiana, i bambini secondo me grazie agli animali, a un cane, capiscono anche un senso di responsabilità. Anche un gatto. I gatti si prendono più cura da soli. Però un cane molto spesso non sa fare niente da soli, se lo lasci nel bosco muore. Però a casa un bambino, magari col cane, capisce che bisogna mangiare a quest'ora, lo portiamo giù a quest'ora a fare la pipì. Quindi gli insegna pure una responsabilità. Un po' di animalità in una casa. Sì.